Sarà un fine settimana all'insegna della meditazione yoga e poi della convivialità e dell'amicizia con pizza sotto le stelle, quello che si appresta a vivere, uno dei borghi più belli d'Italia, a Versa degli Abruzzi. Per domani infatti, in programma nell'ambito del Festival Yoga in corso questi giorni, una conferenza sul tema Essere Donna, la forza della gentilezza, che si terrà alle 18 nei locali della Biblioteca Comunale. Interverranno Andrea Rosario Natale, dell'Istituto Abruzzese Aree Protette, Sefora Inzagli, direttore della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Gole del Sagittario, Maria Luisa De Petris, Martina Saldutti, Viola Rossini, promotici dello Yoga Anversa Festival. Coordinera ai lavori, Mario Giannantonio, rappresentante del Parco Letterario Gabriele D'Annunzio, assessore delegato alla cultura del Comune di Anversa. Lo Yoga Anversa Festival in corso in questi giorni è un campo di vacanza di Kundalini Yoga, in cui i partecipanti fanno esercizi, meditano e si riempiono di sana energia, spiega Maria Luisa De Petris. I partecipanti sono ospiti della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Gole del Sagittario. Esplorando il tema, la gentilezza ti rende infinito, nell'incontaminata natura abruzzese, tra valli, alberi, laghi e borghi cristallizzati nel tempo. Il Kundalini Yoga, come insegnato da Yogi Bhajan, è un insieme di pratiche sul respiro, asanas, mudra e recitazioni di mantra che agiscono direttamente sull'equilibrio psicofisico della persona. Dal maestro è stato definito Yoyoga del capo famiglia, perché è rivolto ad aiutare le persone nella loro quotidianità, continua De Petris. Con la pratica yogica, il corpo ritrova flessibilità, energia e tono. La mente può finalmente essere gestita attraverso una serie di esercizi che aiutano nella gestione di stress, ansia, depressione, eccessi di rabbia, insonni e disturbi vari. Attraverso lo yoga si impara a rendere fluida la relazione con la parte più vera di se stessi, sviluppando una consapevolezza che porterà a benessere e serenità, sia fisici sia mentali. In serata, a cominciare dalle 20, l'attesissima quinta edizione di Pizza sotto le stelle è organizzata dal panificio Anversa, che propone la famosa pizza in svariate e gustose versioni. Le suggestive tavolate all'aperto lungo corso Reinaldo, la strada centrale del Borgo, richiamano i residenti, numerosi turisti e tanti abitanti dei paesi vicini a vivere una serata in convivialità, in un'atmosfera amichevole e festosa.